volete che vi traghetti al centro della palude lì troverete quello che cercate chi sei sei l'orco e cosa sarebbe quest'orco uomo animale spettro drago diavolo dicono che gli orchi siano esseri enormi con denti aguzzi e divoratori di cristiani amici delle creature malvagie della palude e che hanno giurato fedeltà al diavolo ma mi hai messo paura adesso e se l'orco esistesse davvero manca molto al centro della palude stiamo per raggiungerlo lì è sempre primavera una primavera dal calore che assomiglia a quello dell'inferno no 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 no